E' del Partizani Tirana la prima edizione dell'Egnazia Cup, il torneo che ha visto per la prima volta il Frosinone Calcio sulla ribalta internazionale, affrontando il Teuta Durazzo ed i padroni di casa nello stadio Cemalstafa di Tirana. Un appuntamento promosso dall'Associazione Europea della Via Ignazia e dal suo vicepresidente, il Frosinate Fabio Dialmi, che vuole utilizzare il calcio come trade union tra due popoli, quello italiano e quello albanese, così vicini ma per anni così lontani. Diversi gli spunti per mister Stellone con il Frosinone, che dopo aver battuto il Teuta Durazzo nei primi 45 minuti ai rigori, si è dovuto arrendere ai padroni di casa nel terzo ed ultimo incontro. Nel primo mini-match il mister Canarino ha schierato le ali in porta, sostituito poi da Zappino, Zanon, Bertoncini, Diakite e Pavlovici in difesa, Paganini, Cibsasa, Marco e Frara a centrocampo, Dionisi e Lupoli in avanti. Una gara molto ruvida, in cui le due squadre non si sono risparmiate ed il Frosinone ha provato a costruire, contrastato in maniera efficace dai bianco-blu di Durazzo, che forti della migliore condizione hanno attuato un pressing altissimo. Diverse e confuse le occasioni per la squadra albanese, ma la chance migliore è capitata sulla testa di Paganini, che su imbeccata di Frara ha anticipato tutti, mandando a lato. Al trentesimo fallo in area su Dionisi, ma l'arbitro lascia correre, non concedendo un rigore abbastanza solare. Alla lotteria dei rigori, i canarini non sbagliano mai, Poggia la butta fuori e due punti sono del Frosinone. Buone le prove di Bertoncini in difesa e Capitan Frara, che si è ben disimpegnato sulla fascia sinistra di centrocampo. Tanta corsa e sostanza anche per Federico Dionisi, che ha dimostrato una buona condizione. Vince ai rigori anche il partizani nel secondo incontro, andando ad appaiare Frosinone e Teuta nella classifica. Il terzo match, quello decisivo, si gioca con tutte e tre le squadre a due punti. Contro il partizani, Sterlone schiera a Zappino tra i pali, sostituito poi da Pigliacelli, Rosi, Diachitea a cui è subentrato Bertoncini, Blanchard e Crivello in difesa, Verde, Gucer, Gori e Soddimo a centrocampo, Longo e Carlini davanti. Subito pericolosi i padroni di casa, con un tiro da fuori di Feisullau ed una punizione di Morini che impegna Zappino. Poi è Longo a far vedere buoni spunti, l'attaccante di Valdobbiadene si è ben mosso in combinazione con Carlini, dimostrando un'ottima forma, figlia del ritiro svolto con l'Inter di Mancini. Il partizani sta meglio fisicamente e concretizza la superiorità con una gemma dell'attaccante sloveno Racic che trafigge Zappino con un calcio di punizione dai 25 metri che si va ad inzaccare all'incrocio dei pali. Il Frosinone prova a reagire, è sempre Longo a guidare l'attacco ma il gol non arriva, il partizani alza un vero e proprio muro e la mette sul fisico, riuscendo a respingere gli assalti giallo-blu e non lesinando qualche buona occasione. Carlini coglie una traversa a gioco fermo, dopo una combinazione con Longo, nonostante l'assalto però, finisce 1-0. Il partizani vince così la Coppa ed il Frosinone mette altri 90 minuti nelle gambe. Longo e in forma, Carlini corre come da par suo, Pigliacelli, entrato nel secondo tempo, sfodera due interventi di cui uno davvero campione. Un po' sottotono i fantasisti verde e soddimo, mentre Gori e Gucker, spina dorsale della squadra, ancora non sono al top. Di tempo ce n'è, le premesse ci sono tutte.